Buongiorno a tutti, grazie a Radio Villa Centrale, a avermi invitato, sono l'Avvocato del Cennaro D'Agostino e la ASRIM Italy della Alonus. La ASRIM Italy è l'associazione liberi imprenditori italiani che tutela cittadini e imprese contro abusi di potere e malaggiustizia, in particolare gli abusi del fisco e danno dei contribuenti. Invito quindi chiunque all'ascolto, sia esso cittadino e imprenditore a contattarci al 331-8265-363, che è il numero del Presidente, dott. Luccia Alessandro, oppure allo 0823484043 o visitare il sito asrimitalnews.it. Rappresento anche la Alios, un'associazione medico-scientifica a tutela di persone affette anche da gravi patologie. Abbiamo creato un progetto digitale con una piattaforma web in cui sono stati inseriti i medici specialisti, che hanno aderito alle finalità dell'associazione, e il web Medicine Office, che è un metodo di prenotazione digitale delle liste di medici specialisti, in tempo reale, cioè si può prenotare le liste di medici specialisti, senza attendere mesi o anni come si aspetta presso le ASO. Quindi chiunque all'ascolto ha problemi di carattere sanitarie, ci contatti al 331-8265-363, numero del Presidente, dott. Luccia Alessandro, oppure chiami il numero 0823484043 o il numero 0823805180. Visit il sito fondazionemedicale.it. Ringrazio Radio Vida Centrale per avermi invitato e saluto tutti per avermi invitato. Vi saluto.